Salve a tutti quanti ragazzi e ragazzuoli sto sempre io e sto caro Stefano per me lasciate un like e un commento siamo qui in questo nuovo video speciale nuovo video di unboxing speciale ok ragazzi qua abbiamo un pacco misterioso che cos'era della Ubisoft? io che ci amare la regalata e mandata questa piccola cara Ubisoft l'unboxing di, lo saprete già nel titolo, lo state vedendo, sopra la descrizione nel titolo Far Cry 5 Unboxing quindi ora mostriamo il contenuto io non vedete il nostro cotellazzo di O-Rin, porta di cucina abbiamo questo bel pacco senza spaccare nulla ovviamente ecco qua per il meglio un po' di sorte per gli imballaggi sui ecco qua ecco qua, spacchettiamo madonna mia che abbiamo un bel pacchetto di Squatch attenzione, a spaccare le dita ragazzi speriamo che questa è prima la parte giusta di blocco ok infatti questa volta c'è andato il buce di culo guarda solita cartadina di ringraziamento che ho acquistato si, di Far Cry, la mettiamo di lato questo è dietro prima lo schermo, questo qua per video è migliore ecco qua beh, non me ce l'ho uso cazzo ah, il ritorante per le auto tema Far Cry 5, se vedete bene qua ok, andiamo avanti la cartolina, questa è la cartolina scritta benvenuti a montana questa è la lettera di ringraziamento del game diretto di Far Cry 5 che ci dice grazie per aver sviluppato Far Cry 5, tutto quanto che vi siete gustati per la fiducia e tutto quanto è scritta in inglese che abbiamo tutti che in inglese pochi in italia possiamo leggere ah ok abbiamo questa piccola che è ticca qua la Collector's Edition ecco qua la Collector's Edition di Far Cry 5 in metallo sim, ma dopo guerra questo è stato invecchiato vicino ecco qua all'interno comodi resti uniti silos un po' di esplosione dietro da una chiesa mica male questo è il credito del 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 ora chiediamo la soundtrack di Far Cry 5 la soundtrack con la musica tutto quanto le tracce musicale di Far Cry 5 sono 19 tracce buono ragazzi già considero già interno senza senza sballare che io amo queste cose per coltivismo ecco qua Far Cry 5 la mappa non posso fare vedere più alto che adesso che edifici può ripiegarla qua posso vedere le pubblicità di hamburger 11 dollari mmm buono qua la leggenda normale le pubblicità di che dove punti di interesse qua il locale qualche pubblicità che la birra i castori l'aereo che usano nel gioco ammottimento gli storistici qua le note posso vedere qualcosa senza vediamo se riesco appicare troppo qua ecco qua ragazzi un attimo qua con gli interessi locali tutto il resto cosa fare non fare buono come già notato qua c'è già un piccolo streghe del delante per l'auto ok guarda qui ragazzi queste cartoline che possiamo inviare gli amici chiunque possiamo farci qua quel gioco di far creare 5 posso solo aprirlo per vedere che c'è che non è un troll video troll fake che però rimuoverò il codice che mi vuole fregare mi dispiace ragazzi voi eravate no che cazzo mamma mia ecco qua ecco qua ecco qua ragia qua come vedete che già l'ultima cena molto carina che si vede facendo di questo picco testo ragazzo ragazzi chiede più uccide questo qua qua vedete tutti quanti di rc del season pass qui dovete fare creare i 3 classic edition con tutti i campi espansioni carriere remote si 60 giga di minimo spazio beh con il max torre ce la facciamo qua la pubblicità qui dietro ci sono i codici io non ne posso farvi vedere qua la pubblicità del season pass qua il gioco bene ok tagliamo il gioco passiamo qua ora questa è la pericola vaschetta che è molto carina conserva se c'è un gioco in più ti la metto qui qua una cosa carina ora se il cameraman mi viene per aiutare ecco ragazzi la hop country edition la collector's case ragazzi allora questa qua l'aspettiamo da 2 cavoli anni minimo mi arriva a 1500 like solo questa qua e hashtag farcry5 a hashtag far cry5 leve up day cry5 day ok togliamo le polisterole che sono molto buone per come carta da culo come carta da culo ecco che ho bisogno da gratis per l'imballaggio migliore ecco qua ragazzi ammirate già qualsiasi dei paesi paesaggi niente male dei piccoli pezzi mappa qua c'è il combattimento d'aereo una missione qua c'è il padre il padre del cavolo con tutti i suoi fedeli fuori di testa che fate già peccata una fuoco nella fattoria grazie da fuoco già illuminate distraffate di marijuana come siamo stagione trailer qua una fattoria prima incendiata mica male vuoi già un pescatore pesca un po' di truote qua l'apre qua come si apriamo già beh come le suande prima piste cinquanta di questa chiesa del folle ecco qua sotto c'è ogni tanto eh qua ogni tanto si qua apriamo già c'è una cosa bella che c'è con i magneti ok ragazzi preparati che una figata tac tac come una scuola vecchia con la bandina americana che è molto bella già ok qua un tessuto molto carino ok si si se le facciamo il camera va un po' indietro ok ecco qua qua c'è la cosa che vale più al gioco questa qua andiamo a posto ecco qua già per intravedere qualsiasi che c'è boh poi stazione come montarlo tutto quanto a parete in inglese qua stesselli minchia già da sé che c'è una cosa molto importante che andrà veramente pagato ecco questo con un tanto quante state in disoluzione mica male ora passiamo al pezzo forte addirittura cavolo la ubi sono per preservare una cosa così ci mette molto cura ho usato solo la punta per non rovinarne qualcosa magnifica ah si apre qui le punture ecco qua ecco qua ragazzi il seggillato qua già entra vediamo le corna ottimo cosbogne finissimo col filo spinato molto bella intagliata wow ha un buon odore ecco qua ecco qua già le corna belle un cofatti il polistoro queste mettiamo appoggiamo delicatamente qua ecco le altre seconda corna qua già scritto un po' scritta in inglese che non so ma non crede sia il motto del prete o così io country l'ho scritta bella bene ok ragazzi ora passiamo la propria parte crew senza bisogna un bianco di incigli ancora un po' che c'è qua che c'è qua un secondo ripiano ecco qua un secondo ripiano ecco qua ragazzi ho già scritto il logo di Far Cry 5 molto molto carino grazie alla nostra camera speriamo mettere altre come dice cazzate caurate ora con i nostri vittori apriamo 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 ecco ecco due tre 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 ecco qua ecco qua due tre ecco qua ecco qua ecco ragazzi consiglio di avere le mani politiche qua questo è un prezzo molto molto raro e anche dicami un prezzo da collezionismo serio e numerato poche 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 edizione ecco qua Far Cry 5 ecco qua già la sono state fatte soltanto 6.000 pezzi e la mia è la la 37 la 3.000 3.000 e 3784 che bella teschio sembra un teschio vero cazzo sembra un teschio vero sembra un buono sembra un teschio vero ora la mostro con tutto il suo splendore con le corna infilare ecco qua ecco 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 ho sbagliato a mettere ecco 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 io dire una cosa ora guarda ragazzi sinceramente pesa molto su 5-6 kg pesa ecco qua questo è un'ottima oggetto per noi maschi e la nostra caverna che abbiamo nochmal caldo qualunque cose nei giochi così farete con un troffè di guerra se vedete uno sfondo qua adesso è lucido, vede la bandiera americana è stata fatta non male, molto carina e ecco qua ragazzi qua dittore si vede anche qua ragazzi a me del game diretto è stata fatta di Far Cry 5 che ne dire ragazzi allora dal vostro caro dal vostro caro Stefano Parma è tutto ci vediamo nel gameplay di Far Cry 5 il primo video uscirà oggi pomeriggio da corso verso le 5 e mezza ore 18 e 30 quindi ragazzi ci vediamo presto ragazzi lasciate il like un commento del video e condividete ciao ragazzi adio adio cominciamo grazie a tutti